Ma che c'è il fischietto? Vedi che cominciano ad entrare in acqua? Non mi ricordavo, ho passato una settimana già me lo scogliato con un sacco di osi. Non c'è la tuta da su. Mettieni qua, guarda, guarda, vedi, stanno andando, devono raggiungere la partenza, il punto di partenza. E adesso ho il fischietto. Guarda. E anche gli altri. Ma ci hanno qualche per i nasi? Si. E pure respirano? Certo che respirano. Ma io mi sono di spiare che questo è quello che mi sono attraverso. No, non devo, non devo. E poi, e poi, sono delle battaglie. E poi, le battaglie. Sì, sì, sì. E le battaglie qua. Sì, sì, sì. ecco guarda 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 vedi vedi quanta schiuma guarda 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 quello vedi quello giallo e quello che sopra quello vedi come muovono le braccia che energia che hanno poi l'ha fischiato lui quello lui quello che quello giallo perché è la quattro vedi questa destra perché stai dicendo dove devono andare lo scuola ma non mi sa sopra ma non mi sa sopra ma non mi sa sopra ma non ti sa sopra vedi ma non mi sa sopra ii si devono arrivare dall'altro lato devono fare il periplo del promontorio no qui non torneranno più poi alle 12 e 30 c'è è previsto l'arrivo dall'altra parte e andiamo a vedere quando arrivano ok adesso bisogna dire solo in bocca al lupo bisogna dire in bocca al lupo ragazzi in bocca al lupo ragazzi a loro certo e diglielo